Nessuno sa dove siamo. Ci siamo soltanto noi due. Abbiamo avuto un incidente d'auto. Dov'è la mia ragazza? April. C'erano delle persone in casa. Non ci vive nessuno da anni. Io ho visto qualcuno. Amico, venga fuori. C'è stato un malintese. Aiutatemi. Io sono un cittadino americano. Ero in vacanza con la mia ragazza. Dovete darmi un passaggio. Per Atene, l'ambasciata americana si trova lì. Siamo in pericolo. È spaventato. Lo capisco. Ma io starò sempre al suo fianco. Chi è che mi insegue? Vuole uccidermi? Deve consegnarsi al distretto di polizia locale. Se lo faccio, sarò morto in meno di mezz'ora. E' finita, Baggett. Che cosa volete da me? E' finita, Baggett. Che cosa volete da me? Per Atene. Uccidermi? Bene.